In occasione dell'inaugurazione della Clinica del Sorriso, la struttura sanitaria di assoluta eccellenza nata su iniziativa del dottor Giovanni Sansone, non è mancato un appello alla prevenzione. Fare prevenzione permetterà durante il mese di ottobre a tantissime persone di ritornare a fare la cura del cavo orale che era stata interrotta a causa del covid. La prevenzione è una cosa importantissima che tutti dovrebbero fare in quanto prevenire ovviamente ci dà la possibilità di anticipare eventuali malattie del cavo orale come la carie, principalmente la cosa che più fa paura per la perdita dei denti e ovviamente ancora di più le parodontiti che sono la malattia del momento che porta necessariamente alla perdita dei denti. Io ed altri colleghi soci attivi Andi mettiamo a disposizione i nostri studi per la visita odontoiatica gratuita, quindi in questo momento è utile approfittare per verificare lo stato di salute della bocca e ovviamente per prevenire. La nuova clinica altamente specializzata in chirurgia odontoiatica e in impiantologia dispone delle più moderne tecnologie che consentono di intervenire in maniera non invasiva e con strumentazione in apparecchiature high tech. Ottobre è il mese della prevenzione e la cura dell'arcata dentaria è assolutamente necessaria per garantire buone condizioni di salute e per assicurare un sorriso sano e protetto. Testimone di eccezione dell'evento inaugurale è stata l'attrice Angela Bertamino. Tutti gli attori intervenuti hanno lanciato un accorato appello a non trascurarsi, a prendersi cura di se stessi e praticare una sana prevenzione. Il sorriso è quanto di più immediato abbiamo nella comunicazione, è la cosa che più arriva all'altra persona nel momento in cui stai dialogando, stai parlando, stai recitando. È l'espressione più netta del nostro volto ed è una caratteristica che va ad ogni modo curata, va tutelata. Siamo stati costretti per tanto tempo a tenerlo nascosto dietro le mascherine, questo sorriso, e adesso che possiamo in qualche modo esternarlo, riproporlo, farlo mostrarlo, è giusto che la prevenzione venga fatta, che venga curato, venga protetto. L'importanza del sorriso per un attore, per chi fa cinema, per chi fa teatro è fondamentale e magari non avere problemi per un intervento è anche la soluzione migliore. L'importanza del sorriso, il sorriso per chi fa il nostro lavoro, il mestiere del comico è come per le castagne per il castagnaro, se non ci sono sorrisi non ci sono guadagni, quindi l'importanza del sorriso economicamente è questa, poi per un fatto di salute il sorriso fa bene. Il sorriso per noi è vitale, noi attori è la cosa più importante che ci sia e in questo periodo ci è mancato tantissimo, a noi come attori ma soprattutto anche alla gente è mancato proprio sorridere perché non siamo stati più bene. Quindi il sorriso credo che faccia parte anche del buon umore, quindi è una cosa positiva sorridere, il sorriso è importante, come è importante anche la prevenzione, sia una delle cose più giuste, quindi si ritorna ad una certa normalità, speriamo al 100% quanto prima. In questi mesi abbiamo sorriso dietro la mascherina, magari mascherando anche qualche carie, adesso è arrivato il momento di tornare dal dentista. Ma assolutamente sì, per una bella sbiancatura, una bella pulizia bisogna lucidare, sperare la rentatura come si dice a Napoli, visto che adesso possiamo sfoggiare i sorrisi come più ci piace.